Buonasera da TG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, come di consueto in contemporanea anche sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche, sul nostro sito etvmarche.it e la nostra app. Apriamo parlando di politica con i movimenti in vista delle candidature per le prossime elezioni del 25 di settembre. I sindaci si rifiutano, resteranno dunque sulla loro poltrona il rischio in regione e che invece la giunta Acquaroli possa dimezzarsi. Sentiamo. Il problema non è solo mio, il problema riguarda i sindaci principali del nostro paese. Letta ha detto chiaramente che vuole mettere in campo i sindaci perché sa che i sindaci sono un valore aggiunto in questa campagna elettorale. E noi sicuramente saremo in prima linea. Abbiamo a capire se da candidati o meno perché purtroppo c'è una normativa discriminatoria nei confronti dei sindaci e quindi stiamo valutando bene le ripercussioni. Mercoledì avremo un incontro con il segretario Letta dei sindaci del PD e lì decideremo la linea da tenere. Se Matteo Ricci non chiude le porte e rimane in attesa, chi ha già deciso è la sua collega di Ancona, Valeria Mancinelli. Un post su Facebook non lascia dubbi. Non mi candido, ha scritto la prima cittadina del capoluogo. Dovrei dimettermi da sindaco. Questo comporterebbe lo scioglimento anticipato della giunta e del consiglio comunale e la nomina di un commissario per la gestione ordinaria fino alle elezioni amministrative dell'anno prossimo. Non lo farò. L'impegno per Ancona è la mia assoluta priorità. Lo stesso avevano fatto in precedenza Paolo Calcinaro di Fermo, Marco Fioravanti di Ascoli, quest'ultimo nell'area di un centrodestra che si ritrova con la possibilità che tre assessori dell'attuale giunta a Quaroli possano puntare al Parlamento. Mirko Carloni, nonostante abbia dichiarato di non volersi candidare, Giorgia Latini e Guido Castelli. Bisogna essere contenti che ci sia la democrazia. Queste scelte aspettano. Quando me lo proporranno? C'è una discussione che riguarda anche le elezioni politiche, che nessuno di noi si aspettava potessero arrivare così presto. In questa discussione si guarda le esigenze dei partiti, ma anche le esigenze della giunta. Ne discuteremo nelle prossime settimane. Io sono aperto a parlare con tutti di tutto, ma è chiaro che per me il governo della regione e per noi il governo della regione rimane una priorità indiscussa. La cronaca. Ora parliamo di api. Si sono chiuse le indagini che si riferivano all'incidente avvenuto sul tetto del serbatoio TK61 della raffineria di Falconara l'11 aprile del 2018. Ci sono 18 indagati. Gli avvisi già notificati nelle ultime ore dai carabinieri del NOE coordinati sul campo dal PM di Anconi e Renne Bilotta. L'ipotesi accusatoria è quella dell'inquinamento ambientale. La replica della stessa azienda non si è fatta attendere. Ha dichiarato la certezza del corretto operato delle sue persone, ha ribadito in un comunicato stampa, e l'incondizionata fiducia nella magistratura giudicante, davanti alla quale pienamente fiduciosa di presentare le prove e gli argomenti circa la totale infondatezza delle ipotesi accusatorie formulate dalla Procura e diramate dal NOE. Come abbiamo detto, il nucleo operativo dei carabinieri. Sempre di ambiente parliamo. In questo caso però la crisi idrica, la siccità che colpisce le marche, marche che saranno colpite comunque da temporali con la protezione civile che ha esteso l'allertamento anche alla giornata di domani, quindi anche alle coste. Intanto però l'acqua manca da un po', soprattutto nei territori interni, dal Pesarese alla Valdaso. In questo caso la regione è pronta a chiedere lo stato di emergenza e in particolare nel Pesarese ad aprire il Pozzo del Burano. Sentiamo Giulia Boschi. Si è deciso stamattina di aprire il Pozzo del Burano, da oggi a mezzogiorno, per 200 litri al secondo. Il 2 di agosto c'è una riunione del Comitato d'emergenza e credo che la riunione scaturirà la richiesta di stato di emergenza. Lo aveva preannunciato giorni fa e adesso è ufficiale. La crisi idrica che si registra nelle marche ha convinto la regione prima a riaprire il Pozzo del Burano nel territorio di Cagli per garantire l'acqua potabile alla cittadinanza e poi, per la precisione, il 2 agosto a chiedere lo stato di emergenza. Per quanto riguarda la provincia di Pesaro, la situazione è particolarmente difficile. Il fiume Metauro è quasi a secco e gli invasi sono al 20% della loro potenzialità. Da qui dunque la decisione di aprire è così da sommare quest'ulteriore aiuto alle misure già adottate. Già abbiamo 150 litri dal Pozzo di Sant'Anna che è già attivato da una settimana e inoltre abbiamo ridotto sempre la settimana scorsa di 150 litri il rilascio dell'acqua dagli invasi per mantenere vivo il fiume Metauro ovviamente. Quindi in questo caso oggi non si è deciso ulteriore riduzione del flusso vitale quindi rimane lo stesso apporto d'acqua all'albero del fiume dagli invasi. Situazioni di criticità si registrano però anche in altre aree della regione come la Valdaso. Qui la Coldiretti segnala danni alle coltivazioni artofrutticole ma anche dei sibillini in particolare nei comuni di Ussita, Pievetorina e Visso dove a preoccuparsi invece sono gli allevatori. Ci sono degli allevamenti in montagna che hanno delle grosse difficoltà per essere abbeverati e di conseguenza hanno già richiesto il servizio di autobotti come lo scorso anno da parte della nostra protezione civile. Per il momento decidiamo di fornirle le autobotti. Altro tema caldo, quello della sanità con la giunta a Quaroli pronta la proposta di legge che riformerà il sistema della sanità nelle Marche. Con quali tempi entro ferragosto il cronoprogramma del presidente stesso a Quaroli dovrebbe arrivare nell'aula del Consiglio. Via Libera la proposta di legge che ridisegna l'assetto dell'organizzazione sanitaria regionale. La Commissione Sanità ha infatti approvato a maggioranza la proposta di legge 128 che porterebbe all'abolizione dell'Asur. Nel quadro generale della proposta di legge ad iniziativa della giunta regionale regioni, comuni, enti del servizio ed agenzia regionale sanitaria avranno il compito di provvedere allo svolgimento delle funzioni in materia di sanità previsti anche organismi di controllo e partecipazione come la conferenza dei sindaci. La riforma rimette ordine in un sistema piuttosto confuso di un'area di una unica azienda regionale. Qui serve anche intervenire in modo tale che ci sia una capacità di organizzazione della sanità a livello dimensionale aziendale più basso. Occorre immaginare quindi l'organizzazione sanitaria come se fosse un'azienda privata. Tant'è vero che si applica il codice civile e le norme che gli imprenditori dovrebbero usare nella organizzazione aziendale per la produzione di beni e servizi. Quindi io penso che attraverso una riduzione e una diretta corresponsabilità tra la domanda e l'organizzazione che i dirigenti devono offrire ai cittadini ci sia una risposta migliore rispetto all'attuale. E anche caos personale. Troppi medici in pensione quest'anno rispetto ai sanitari protagonisti di assunzione. Per la stagione estiva dei pronto soccorso l'unica risorsa disponibile è quella delle cooperative. Siccome c'è stata una cattiva programmazione del personale non troviamo i medici. I medici che vanno in pensione quest'anno sono maggiori dei medici che sono sfornati dall'università. E dovendo quest'estate garantire il riposo e le ferie a tutto il personale le uniche risorse disponibili, mediche e sanitari per i pronti soccorsi sono costituite dalle cooperative. Dopodiché c'è un'intrinseca contraddizione che il governo ancora non ha cambiato per cui il pubblico non può chiamare i pensionati medici oltre 70 anni ma possiamo invece chiamare a lavorare con le cooperative pagando praticamente il doppio. Io credo che prima o dopo questo nodo debba essere sciolto. Cantieri e ritardi sono anche una fase indispensabile nel progetto più ampio di riqualificazione del quartiere Archie di Ancona. L'amministrazione comunale fa il punto dei lavori. Sentiamo. Oggi c'è il lavoro complesso dei cantieri però è una fase intermedia che poi porterà alla ricostruzione di un'immagine complessiva di quel quartiere e anche di sostanza perché ci sono anche tanti interventi concepiti sul sociale che saranno un bellissimo risultato. L'assessore al piano strategico di Ancona, Ida Simonella, ha fiducia nella riqualificazione del quartiere degli Archie. I ritardi dei cantieri e i disagi provocati sono solo una fase. L'obiettivo del bando periferie resta quello di migliorare la qualità della vita nonostante le difficoltà non siano state affatto poche. I ritardi dei cantieri sono collegati all'incertezza dei tempi. La pandemia e la crisi per il reperimento delle materie prime hanno contribuito alle difficoltà di rispettare le scadenze prestabilite. Due anni di Covid, un problema di reperimento dei materiali, problemi di costo dei materiali, problemi di ricerca delle maestranze, chiaramente non possiamo dire che questi lavori siano andati avanti normalmente, anzi, sono andati avanti con molto affanno. Gli archi, come vedete, stanno procedendo abbastanza bene, fermo restando su tutto quello che è l'incertezza di alcuni materiali. Per esempio lì la palestra ha una copertura in legno e speriamo, ci auguriamo, che questo materiale sia facilmente reperibile in questo momento. Per via 29 settembre noi contiamo di poter completare questi lavori della nuova balaustra e della sistemazione della pavimentazione attorno a Porta Pia e intorno a Largo Traiano di completarli in tutt'obre. Per quanto riguarda l'autostazione del Verrocchio, ci sono stati iniziali rallentamenti relative ai ponteggi che non erano sufficienti. Ad oggi, però, l'attività del cantiere sta procedendo regolarmente e si spera presto di arrivare alla realizzazione dell'autostazione che faciliti una viabilità comoda ed ecosostenibile per tutti i cittadini. Cambiamo argomento, una maxi installazione con dedica speciale ad uno dei simboli del motociclismo mondiale, ma pesarese di nascita. Stiamo parlando chiaramente di Valentino Rossi, a cui l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Matteo Ricci, ha dedicato per l'appunto, inaugurandola nel pomeriggio di ieri, un'installazione, un casco da leggenda. Sono sempre stato un grande appassionato di caschi, quindi è una bellissima idea. Abbiamo deciso di fare questa grafica qui, ce ne sono state tante famose, diciamo, durante la mia carriera, però a me questa piace molto. E poi c'è scritto Valentino Rossi dietro, quindi si riconosce che è il mio. Piazzale D'Annunzio, Pesaro, è stato inaugurato il casco gigante dedicato al campione del mondo Valentino Rossi, alto 4 metri e largo 6. È stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Matteo Ricci di Pesaro. È stato realizzato a Riccione dall'azienda Extra Lab ed è stato inaugurato davanti al campione Valentino Rossi. Sono contento perché per me Pesaro è molto importante, perché mio papà è di Pesaro, poi i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro e dopo, vabbè, io sono cresciuto a Tavuglia, ma vengo tante volte qua, mi alleno sempre qua, quindi è la mia seconda casa, quindi sono molto contento che mi abbiano dedicato questo cascone. Io sono sempre stato un grande appassionato di moto e sono contento perché con la mia carriera tanta gente si è appassionata e ha seguito più attentamente la moto, le MotoGP, ecco. Poi adesso abbiamo tanti piloti giovani che corrono per noi, abbiamo il team in MotoGP, quindi spero che tutti i tifosi continuino a guardare le gare e a fare il team. Il casco è stato ingegnerizzato, immaginate che io, Valentino ha scelto il casco che più lo rappresentava, me l'ha dato gelosamente sotto scorta, l'ho portato a ingegnerizzarlo, cioè è stato passato a uno scanner laser e alla fine è venuto fuori il casco delle dimensioni che doveva essere. Si vedranno gli occhi di Valentino nella visiera, è vero? Allora questa è una diatriba che però io devo svelarvi perché molti mi chiedono di questo sguardo, voi non vedete mai lo sguardo di Valentino in pista, è più bello immaginarlo il suo sguardo e quindi vi dico subito che questo non ci sarà. La musica ora con la seconda serata di Lunaria a Re Canati con Fabrizio Bosso, Massimo Popolizio, Julian e Oliver Mazzariello che hanno incantato sul Colle dell'Infinito con La vita e la musica di Chet Becker. Vediamo. Aspettiamo con ansia a questo punto anche Irene Grande sempre in piazza Giacomo Leopardi che sarà il terzo appuntamento della finale di Lunaria. Partiamo dalla fine con l'assessore Rita Soccio che ci ricorda l'ultimo appuntamento con Lunaria di giovedì prossimo 28 luglio con il concerto di Irene Grandi in piazza Leopardi ma la serata andata in scena all'Orto dell'Infinito è stata memorabile con l'omaggio a Chet Becker grazie alla voce di Massimo Popolizio, alla grande tromba di Fabrizio Bosso e alle note del pianoforte di Julian Oliver Mazzariello. Un viaggio nei colori della musica e della vita della leggenda del jazz. nello spettacolo Shadow Wars. Serata eccezionale della nostra programmazione, d'altra parte Lunaria da sempre è come progetto artistico fatta da parole e musica e devo dire che questo si è perfettamente rispettato in questa serata. E fu dopo un paio di discussioni in famiglia che decisi di entrare nell'esercito. Avevo 16 anni. Quando hai a che fare veramente con dei maestri del jazz come loro devi volare alto, devi volare, qua ce ne sono tre perché c'è anche Chet Becker, cioè comunque parli di mostri. Popolizio torna a Recanati dopo aver girato qui il film di Mario Martone, il giovane fauloso nei panni di Monaldo, padre di Giacomo. Questa provincia, la chiamo provincia, ma è quella che tiene di più secondo me le reti dell'Italia. Cioè la vera vita sta qua, non sta più nelle città. Io vivo in Roma, mi sono andato a Milano, ma la vera vita, i veri rapporti personali, anche la vera cultura in realtà si respira oggi più che mai in una certa provincia. che è Recanati è quella. Fabrizio Bosso infine esalta proprio la performance dell'attore e anticipa, chissà, future collaborazioni. La cosa bella è che lui diventa un terzo musicista in alcuni momenti, come si può sentire va sui testi, in tona magari alcune note venendo dietro noi. Questa è una cosa molto bella e ci ha dato molto relax fin dall'inizio. Cioè è una cosa che è partita senza problemi e sta andando avanti senza problemi. Speriamo di poterne fare tante altre e anche lavorare su nuovi progetti probabilmente. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di Atv. Grazie per l'attenzione e l'augurio ed una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.